Buonasera, bentrovati al salotto acquatico di Swimbezza, siamo a Barcellona e io sto con questi due marcantoni neanche a dirlo, innanzitutto, il capitano, il nuovo capitano, che meraviglia! Buonasera Mirko di Tora! Ciao a tutti! Buonasera al fenomeno, la rivolta, il guerriero del legnano, nessuna implicazione però, no? Matteo, rivolta? Beh dai, ciao a tutti, diciamo che fenomeno non mi si addice proprio, Matteo rivolta mi si addice, dai! Senti che accento che c'è, uè, fenomeno, uè, fenomeno! Allora, appena sbarcati, impressioni, guida il luogo? No, vabbè, Barcellona è una città bellissima, tra l'altro oggi siamo andati a nuotare una piscina che non sarà quella delle gare ma è una piscina dalla parte opposta di Barcellona e quindi abbiamo avuto modo col pullman, sembra uno dei tour guidati dove si sta fuori, scoperti a guardare, quindi abbiamo già visto, abbiamo visto, ma Cica no, abbiamo visto musei, monumenti non ci credo neanche se, invece lui è lui, lui è fidanzatissimo, lo dico bene, no? Sì, però vabbè, le vedo anch'io lo stesso, non è che mi copro gli occhi, per vedere le vedi! Senti, battaglia qui, lo sai che tu rivolta, rivolta rivolta? Eh, battaglia, io faccio il mio, poi dipende anche dagli altri, perché comunque... Però sai che noi ci aspettiamo, ecco, lo diciamo, da te ci aspettiamo quella roba là Non so cosa vi aspettate voi, io mi aspetto di fare... Sai che porta bene il saluto acquatico, no? Guardate un po'... Una buona figura, e poi, ripeto, dipende anche dagli altri, quindi... Possiamo vedere Sobri, ha detto sobri, hai visto? Beh, è un po' preso da te, perché tu non sei... Sì Eh? Eh? Allora? Sta sensazione di capitano, no? Ma no, no, no... Vuol dire che si cresce, che si invecchia, che si diventa anche una persona un po' più posata Mazzami, mi imbarazzi questo... No, no, no... Sto giubbotto, sto poso, sto braccio Però, no, dai, parte tutto non cambia poi così tanto, adesso mi fa piacere che gli altri abbiano deciso di rappresentarli, cercherò di... Però è un onore questo Sì, sì, assolutamente, un onore, tenere il gruppo unito, però quello che ho detto fin da subito, ho detto, non cambierò di certo per questo, insomma, se mi hanno voluto è perché sono così, la cosa più sbagliata che io possa fare è diventare serio Eh, appunto, appunto, comunque, senti, mi raccomando, porta avanti questo squadrone perché noi ci contiamo veramente tanto Ok, ok, anche perché non vorrei mai essere ricordato come il capitano della nave che affonda Beh, quello mai non lo diciamo adesso inizialmente, comunque sta arrivando Roberto Bonanni Ah, no... Roberto Bonanni che porterà, insomma, i botti, i fischioni e quant'altro Va bene, dai Alla prossima con Swim Biz, ciao Ciao